Allora, eccoci al nostro appuntamento, anche oggi che è la Festa della Repubblica, anche oggi che è il 2 giugno, e oggi vi voglio parlare di Claudio Magris. Molti di voi conosceranno Claudio Magris, che è uno dei maggiori scrittori italiani, uno dei più importanti intellettuali contemporanei triestino. Molti di voi lo leggeranno sulle pagine del Corriere della Sera, di cui uno dei collaboratori più prestigiosi. È un germanista che ha insegnato letteratura tedesca all'università ed è autore di tantissimi libri, alcuni saggi, alcuni romanzi, anzi direi che è il più importante autore che si situa proprio fra il saggio e il romanzo. Chi non l'ha letto vada subito a leggersi i suoi libri più belli, c'è Danubio, che è il suo lavoro, ma anche Lontano da dove, un saggio bellissimo su Joseph Roth, e fra l'ultima produzione è molto bello L'infinito viaggiare, che è finito qualche anno fa come compito per gli esami di maturità. Chi non l'ha letto niente si legga prima questo. Chi invece già conosce Magris, a loro segnalo che ora è uscito. Polene, occhi del mare. Il suo ultimo libro, uscito da poco, come vedete ha anche una copertina abbastanza marinara e adatta a questa estate che sta arrivando. C'è appunto una polena, come vedete, in copertina. Il titolo è Polene, occhi del mare. Sapete che cosa sono le polene? Sono quelle statue di legno che decoravano la prua delle navi un tempo. Per decorazione, sì, ma forse anche per togliere il malocchio. Loro guardavano il mare e guardando il mare vedono quello che succederà, vanno avanti, guardano l'infinito. Ecco, appunto, occhi del mare perché i loro occhi spalancati sono un po' la caratteristica delle polene che cominciano con la prima barca, quella degli argonauti. Era un ariete, dice Magris. Era invece Afrodite, la polena della nave con cui Paride rapì Elena di Troia e poi molti animali come polene, molte decorazioni, ma soprattutto donne. Ecco, le polene sono donne. E in questo libro Magris ci accompagna in un viaggio appunto molto documentato. Lui è stato nei musei delle polene, un paio ce ne sono anche in Italia, uno alla Spezia, uno a Milano, ma anche altri in tutto il mondo. Queste polene che hanno questa caratteristica molto unica, direi, perché, dice Magris, fissano il tremendo. Con i loro occhi vuoti, inespressivi, guardano dalla prua la navigazione. Sono di una bellezza astratta, dice Magris. Non sono opere d'arte come quelle che si vedono alle gallerie dell'Accademia, all'Ufficio, al Bargello o all'Ubre. Sono di una bellezza un po' insignificante, vagamente neoclassica, molto inespressiva, in colori come l'acqua, dice Magris. E il vortice del vento, le increspa, e quel vortice del vento che increspa le onde, lo vedete, fa un po' sembrare che si prolunghi anche nella veste fluttuante delle polene, fatte di legno e di acqua, e continuamente rimescolate. Ecco, questo libro è un po' uno scandaglio di questi schermi tra il navigante e quel caos sublime che è il mare. È meraviglioso, ma anche terribile, per cui la polena può vedere, tipo Cassandria, una tempesta che arriverà, una scevura, un naufragio che lo vedrà per prima, una tromba marina, oppure potrà vedere l'approdo felice in porto. E di queste polene, dice Magris, alcune sono bellissime, anche eroticamente, col seno scoperto. Altre invece sono piuttosto arcigne e sgradevoli, perché, dice sempre Magris, insomma la donna ha questa, nell'immaginazione di una ciurma che è soprattutto maschile, ha questa doppia valenza, sia di bellezza, di speranza di ritornare a casa, ma anche a volte, no, a volte chi c'è a casa è una rompiscatole, è meglio ricordarsela e metterla con il colena. A volte, insomma, fan fatali, a volte invece sono immagini così fantastiche, a volte sono addirittura ritratti delle persone care di nostra casa, della moglie, e della figlia. Magris è bravissimo nel raccontarle, raccontare soprattutto quelle più vissute, quelle antiche nei musei, tutte smaggiate, corrose dall'acqua, scavate come teschi, che sembrano persone morte, vissute moltissimi anni fa. Racconta che molte volte i marinai, siccome gli volevano bene, le toglievano dalla trua durante le tempeste, oppure le vendavano, per non farli vedere le cose brutte. E poi, una volta che hanno finito il loro compito, sono finite ad adornare qualche taverna sul porto, magari. Gli indigeni che ne trovarono una, la adorarono come una dea. Insomma, sono moltissimi i racconti che Magris fa, ed è anche un libro, ve lo far vedere, al tempo stesso anche molto illustrato. Ci sono moltissime polene, se voi lo vedete, ci sono moltissime illustrazioni, e è tutto pieno di polene. È un libro molto lussuoso. Ecco, vedete, tutti i tipi di polene, quindi lui ogni tanto le racconta, ogni tanto le fa vedere. Ci sono polene con Lincoln, polene con Cleopatra, insomma, c'è un po' di tipo. E lo scandaglio straordinario di Magris è sempre quello a metà fra il saggista e il romanziere. Da una parte lui racconta anche le polene della letteratura, una di Gunther Grass, una di Hawthorne, ce ne sono moltissime raccontate nei racconti, anche quelle fantastici, perché la polena, un po' come le statue, ha una fissità, una immobilità che la rende un po' inquietante, un po' sinistra, un po' spettrale, come tutte le statue che hanno delle fattezze umane. E dice Magris, appunto, la polena è essenzialmente uno sguardo attonito e dilatato. È per guardare che viene collocata a prova, per guardare qualcosa che ai marinai è vietato, le imminenti e inderogabili catastrofe, ancora invisibili agli altri. E Pablo Neruda le collezionava, dice Magris, parla anche di un racconto di Karen Blix, parla di un sacco di cose e omaggia questi... vi leggo soltanto un piccolo brano di quando la sirena torna a casa, perché molto spesso il marinaio che finiva di navigare staccava la sirena dalla nave e se la portava a casa. E quella sirena che aveva visto il mare, che aveva visto il caos infinito, azzurro, tante avventure, è finita un po' come Ulisse che torna a casa vicino al focolare, accanto al suo padrone, ormai invecchiato. E Magris dice, io sono un po' preda dell'allergia, quindi scusate se avevo gli occhiali da sole, e Magris dice, c'è tuttavia un salvataggio più affabile e borghese, quello dell'onesto marinaio che va in pensione e si porta a casa, in una serena e raccolta intimità, la figura che gli ricorda gli anni sul mare e che se ne sta a Pacifica vicino al camionino. Non sirena demonica, bensì bonaria persona di famiglia. Quindi questa doppia natura che la polena ha e anche quelle naturalmente finite nei musei che ora sono protette al caldo e tranquille, non hanno più i rischi della nave. E chi erano i costruttori di Polene? Nonostante la vicinanza, in alcuni casi, con alcuni madonnari, i tipici scultori di Polene sono soprattutto onesti artigiani di botteghe protestanti, di un'arte esercitata come sobrio e schietto lavoro, nell'intimità casalinga di un'officina che sconfina con la famiglia ed è retta da una semplice e limpida operosità. Buon odore del legno, garzoni trattati severamente e paternamente come figli, onorata in segna di bottega, che è nome e dinastia familiare, scrupolosa dedizione borghese protestante a un'attività che non ha pretesa dare, ma l'orgoglio del lavoro ben fatto, identità di vita e professione, ditta e famiglia, come Buddha brock, il famoso romanzo di Thomas Manni, Magris non si dimentica mai di essere un germanista. E insomma ve ne leggo un altro piccolo brano perché la bellezza del libro soprattutto è nella scrittura di Magris ed è anche nell'ampiezza di orizzonti, nella capacità di argomentare e di passare da un argomento all'altro, dalla letteratura alla storia, dall'arte ai dati aneddotici come questo. Il marinaio italiano Vincenzo De Felice, che si fidava delle leggende, quando la Primos il 24 giugno 1871 si squarciò sui Seven Stones a largo delle scili, si trovò in acqua, si afferrò alla polena, una bella donna pienotta e arduta con vasti semi sotto la fluttuante veste bianca e il viso rivolto in alto come per offrirsi a un aiuto e se la tenne stretta finché fu tratto in salvo, unico superstite di tutto l'equipaggio. Lui si salvò grazie alla polena, la polena chissà che fine aveva fatto e poi invece, qualche giorno dopo il naufragio, Vincenzo De Felice, passeggiando sulla spiaggia, a San Martins, nelle Scigli, vide che le onde avevano spinto a riva la polena salvatrice. La fece risistemare nel giardino di Presco, dove è ancora adesso, fra le altre polene e i cipressi di quell'incantato angolo tropicale sospeso tra acque e geli. Vedete, è ricco di piccoli mini racconti come questo, è un libro che si legge agevolmente, che si porta anche al mare e si legge sul mare e proprio al mare, voglio dedicare il finale di questo nostro breve incontro, perché il libro ve lo consiglio soprattutto perché si va verso la stagione e si comincia ad andare al mare nonostante il coronavirus e naturalmente la polena è anche, come posso dire, la dea del mare, la protettrice del mare e Magris dedica al mare pagina come questa. La polena è donna e è anche la prima che vede la disgrazia, quindi è un misto inquietante di amore e morte, è un totem enigmatico, sinistro. e però si, come diceva il poeta montale di una ragazza esterina che si butta in mare, ha il coraggio di solcare l'infinito, il caos, il viaggio. Il mare è vita assoluta, essenziale. Dinanzi ad esso ci si toglie, una dopo l'altra, le vesti e le sovrastrutture dell'esistenza falsa, di ciò che impedisce di vivere, abbandono, felicità, perdersi nel respiro del mondo. Ed è bello anche perdersene nel respiro delle pagine molto, questo è Claudio Magris, lo vedete, è lui, è un signore che oggi ha più di 80 anni, portate benissimo, e vi consiglio Polene, Occhi del mare, edito da La nave di Teseo. Grazie e alla prossima.